L'Inter torna a far visita alla Virtus Andria. Nel corso dell'ultimo weekend sono stati ospiti della società andriese i tecnici Fabio Pesatori e Matteo Traina, il primo coordinatore tecnico dei settori Under 9, 10 e 11 della società Nerazzurra, il secondo istruttore tecnico dell'Under 9 Nerazzurro. Una visita che rientra nel programma IGP Inter di cui la Virtus Andria è l'unica in Puglia a farne parte, l'occasione per i tecnici interisti di osservare i tesserati andriesi, tenere sedute di allenamento con loro e poi formare i tecnici Virtus. Il bilancio è senz'altro positivo. Il bilancio è un bilancio stra-positivo. Prima di parlare della qualità dei ragazzini, che è una buona qualità, volevo parlare delle persone. Conoscevo già Raffaele Quaranta, responsabile dell'attività di base della Virtus Andria e essendo io la prima volta che sono venuto qui ad Andria ho conosciuto poi le persone che fanno parte dell'organizzazione dello staff della società. Persone veramente, al di là dell'ospitalità è una cosa incredibile, però persone fantastiche e competenti che sono la base per poter far crescere nel tempo questa società e per farla diventare un punto di riferimento della Puglia per FC Internazionale. Siamo venuti qui come Inter sul territorio di una delle nostre società IGP, quindi una società dove crediamo fortemente perché è una realtà che è brava e ha un potenziale importante sul territorio della Puglia. Una realtà dove credono fortemente nel talento e quindi i ragazzini bravi possono parteciparci benissimo e comunque un ambiente familiare un po' come quello che abbiamo anche noi nel settore giovanile dell'Inter. Un weekend concluso con la terza edizione del Virtus Day al Centro Sportivo Arca, occasione per i genitori di conoscere da vicino i tecnici giunti da Milano. Bilancio perfetto perché siamo riusciti a coprire tutte le fasce d'età come intervento allenatori Inter. C'è stato anche un intervento importante sabato mattina con una riunione tecnica dove ci sono stati una serie di scambi di messaggi molto importanti per noi, quindi meglio di così non poteva andare. Chiusa con l'ennesimo Virtus Day con una giornata splendida, una partecipazione massiccia dei bambini e anche dei genitori, quindi di meglio non potevamo chiedere a queste altre giorni. Nel futuro della Virtus Andrea un obiettivo ambizioso, essere un punto di riferimento per l'Inter in Puglia. Le basi create promettono bene. L'obiettivo nostro è quello di diventare il punto di riferimento dell'Inter in Puglia. Stiamo lavorando, stiamo lavorando non con le parole ma con i fatti.